Penso che sia giusta l'indecisione che trovo nelle sue parole, ma si immagina io che in ogni momento, in ogni secondo sono a che fare con i toscani che vivono l'emergenza Covid, il comune a cui devo dare la zona rossa, le vaccinazioni che sono la nostra grande sfida se questi sono gli argomenti di cui preoccuparsi. Se lo vuole l'europarlamentare Danti pensi a queste cose, io sinceramente ritengo prioritario per la Toscana continuare a impegnarmi sulle cose di cui ho parlato finora.